Ancora caos all'ufficio anagrafe di Torre del Greco. Ore di attesa per i cittadini in fila per il rinnovo della carta d'identità. Disagi dovuti alla forte carenza d'organico negli uffici che si protrae ormai da tempo. Ai microfoni di TV Siti abbiamo raccolto la rabbia e l'esasperazione dei cittadini. Non sono mancati gli appelli all'amministrazione comunale per far fronte alla situazione. Da stamattina la fila si protrae per molto tempo? Molto di più. Ci sono persone che hanno appuntamento a mezzogiorno, adesso sono quasi le due e non sono riusciti ancora a fare la carta d'identità. Danno degli appuntamenti a persone tutti quanti nello stesso orario e poi magari una sola persona che sta allo sportello deve fare servizio per tutte le persone. Giustamente noi non ce l'abbiamo con la signora che lavora, però le persone che dovrebbero lavorare dove stanno? Hanno approvato un bilancio e devono fare 29 assunzioni. Dove stanno queste 29 assunzioni? Non hanno fatto ancora niente. E' evidente che in questo ufficio c'è una carenza d'organico per cui non si riesce a gestire tutta l'utenza? Sì, è così. Ci manca il personale. Noi siamo un paese di 80.000 persone e non è possibile che una sola persona deve lavorare e fornire servizio per tutta la città. Ci vuole il personale. Il suo appello al sindaco? Deve solo prendere un'iniziativa per creare qualcosa per risolvere il problema. Avevamo l'appuntamento a mezzogiorno e un quarto e ecco qua, ci sono le due e siamo ancora qua. È impossibile stare con un solo funzionario, con tante persone. E qui per rinnovare la carta d'identità? Per rinnovare la carta d'identità. Abbiamo fatto la prenotazione sei mesi fa, siamo arrivati ad oggi e sto aspettando dalle undici e mezza che arriva il mio turno. C'è poco personale, non possiamo pretendere che un'unica persona si occupi di tutte le pratiche e tutti gli appuntamenti poi vincolati allo stesso orario. Quindi c'è un problema di base che non dipende dai dipendenti ma dipende da chi organizza, insomma, c'è dalla gestione generale. Un problema di gestione, un problema di organizzazione che va però a danno dell'utenza? Sicuramente, in altri comuni, mia sorella di Bosco Reale, cinque minuti fa la tessera va via. Noi siamo qui dalle undici stamattina. Da cittadina un appello all'amministrazione comunale? Di sicuro fare più assunzioni, quindi dare spazio ai giovani, far sì che i giovani entrino in quello che è il sistema comunale. Anche persone magari più organizzate, non discapito di persone un po' più adulte o di età un po' più avanzata, però dare spazio ai giovani in modo che si subentra anche una tecnologia nuova, che sia quella dei computer, che sia quella comunque della digitalizzazione del documento. Quindi creare un attimino una situazione differente, quindi dare anche un po' più di posto di lavoro, visto che la situazione che viviamo, far lavorare qualcuno non sarebbe male.